La conferenza stampa di UEFA Champions League per la partita Inter-Celsea e è per questa ragione che sono qua. Sono qua perché devo stare, sono qua perché è Champions League, perché è UEFA, perché non sono squalificato, perché devo rappresentare il mio club insieme a un giocatore e perché sono qua disponibile per parlare della partita di domani, di un modo un pochino più globale della eliminatoria, se vogliono, però sono qua per Inter-Celsea, first leg, come si dice in italiano, prima andata di Champions League.